bentornati fratelli di tuberanza in un nuovo video tier list dove andrò a valutare le mie serie tv preferite oppure no quelle che vorrei vedere o quelle a cui non sono proprio interessato ma prima di cominciare lasciate un bel pollicione all'insù per supportare questi video e mi raccomando sotto nei commenti fatemi sapere qual è la vostra serie tv preferita che sia netflix prime video insomma quella che vi pare e magari consigliatemene qualcuna no bad iniziamo con mister robot una serie tv che io personalmente ho apprezzato anche se in realtà ho visto solo la prima stagione perché la seconda mi era un po sceso l'interesse dato che nella prima stagione mi ero totalmente rimbambito perché non ci ho capito quasi niente quindi la metterei su nulla di che c'è si bella ma insomma poi è chiaro ragazzi questa è la mia tier list personale se non siete d'accordo è normalissimo perché non tutti abbiamo gli stessi identici gusti sherlock personalmente la metto su mai vista perché non è che sono un grandissimo fan degli intrighi dei misteri quindi la metto lì narcos regà la serie tv narcos va su top perché la storia di pablo escobar è meravigliosa soprattutto io adoro le serie tv in cui si parla di droghe mafie insomma queste cose un po così dove ci sono un po di un po di cose particolari io raga sono un grandissimo fan di gomorra ok su burra personalmente non l'ho mai vista la metto su vorrei vederla anche se la vedo un po come una brutta copia di gomorra fatemi sapere voi cosa ne pensate breaking bad me ne hanno parlato benissimo tutti io vorrei recuperarla infatti la vado a posizionare su vorrei vederla e quindi chissà poi abbiamo lost io lost questa è un'altra serie tv che non ho mai visto voi direte tu ma stai facendo la tier list hai visto quattro serie tv su dieci no raga ne ho viste parecchie solo che quelle che ho visto vengono più tardi ecco iniziamo un po così lost la metto su mai vista neanche su vorrei vederla perché sostanzialmente non è che io abbia poi questo grandissimo interesse vis a vis io vis a vis ragazzi l'ho visto l'ho vista perché è una serie tv la metto su bella perché è estremamente carina in cui dentro ci sono molte attrici che hanno fatto poi la casa di carta quindi ho avuto un po un e quindi ho apprezzato la serie questo è tipo insaziabile mi sembra che l'ho iniziata a vedere ma non non l'ho poi continuata perché probabilmente non era poi così impressionante o interessante perché raga io quando trovo una serie tv che mi piace poi mi ci fisso e la finisco nell'arco di pochi giorni questo dovrebbe essere riverdale vorrei vederla me ne hanno parlato benissimo e quindi la metto su vorrei vederla elite vista la mettiamo su su carina ma niente di che questa mai vista e non la conosco vabbè i griffin regali griffin so tipo il top del nonno commedia ma del dell'animazione un po satirico secondo me piki blinders allora qui ci sarebbe un discorso effettivamente perché piki blinders è fatta molto bene ma a me non mi ha preso quindi raga io personalmente la metto su nulla di che so che potrebbe essere una bestemmia ma raga e almeno non è che mi dà quella voglia di dire wow god omen god omen l'ho vista tutta quindi è praticamente un diavolo e l'angelo che cercano e alla fine poi fanno cose la metto su carina nulla di più perché non è che sia poi sta grandissima serie tv bella ma non troppo di cui abbiamo american gods american gods vista tutta con i vari dei tutti quanti anche se io sinceramente la metto anche questa su carina che tra l'altro una serie tv amazon prime come god omen niente di che ma non bruttissima ci può stare questo non l'ho mai vista a bel principe di bel air la mettiamo su top questa qui dovrebbe essere tipo vabbè non mi ricordo se tipo quella che lei tipo navi e vergine roba del genere la mettiamo qui su nulla di che perché non l'ho finita sabrina sabrina raga serie tv molto carina molto bella a tratti anche paurosa io sono uno che si spaventa abbastanza con i jumpscare e roba del genere quindi la metto su bella lucifer ragazzi la mettiamo su top lucifer raga è una serie tv top questa dovrebbe essere la serie tv quella della regina elisabetta l'ho iniziata è carina ma dopo un po mi aveva lappato un po le palline e quindi l'ho mollata anche questa la metto su mai vista perché non so cosa sia the horseman mai visto rick e morti mai visto ma potrei volerlo vedere perché no gossip girl mai visto e sinceramente non mi interessa questo nemmeno dark dovrebbe essere dark l'ho iniziata non ci ho capito niente quindi la piazzo su nulla di che questo non so cosa sia quindi mettiamo su mai visto death note mettiamo su top questo non l'ho messo nemmeno a team wolf team wolf ragazzi va subito sulle top perché tipo la mia la mia serie tv ideale delicantropi mostri roba del genere team wolf top bellissimo adoro brooklyn questo qui non l'ho mai visto gomorra top game of thrones top ci avete capito più o meno no le serie tv che piacciono a me i will meet your mother carino a volte non è che mi faccia poi così ridere simpson top la casa di carta top anche se molti dicono e vabbè tube però le rapine sono fatti alla cavolo surreali raga godetevi l'atmosfera e l'ambiente non state troppo a pensare è ma il poliziotto qui poteva non doveva dai allora questa invece è una serie tv che guarda spesso mio padre la sera e io la metto su fa schifo perché obiettivamente mi fa schifo sarà che forse l'ho imparato ad odiare grace anatomy non l'ho mai visto ma non lo vedo anzi scusate lo metto su fa schifo perché io odio i quando aprono i cadaveri che si vede praticamente tutto mi fa proprio vomitare ma non schifo a livello di madonna serie tv di merda no fa schifo nel senso che proprio mi fa senso mi fa il prezzo chernobyl chernobyl raga carino carina come serie tv molto ben fatta ti prende ti mette nella stessa atmosfera ah questo è coso stranger things beh stranger things ragazzi va su top perché adoro stranger things ah di android raga di android serie tv top anche se il finale non lo so ricchi il finale non mi ha poi convinto così tanto the witcher the witcher la mettiamo su bella bella niente di così pazzesca mente umbrella academy top adoro umbrella academy questo dovrebbe essere merlin merlino la mettiamo su carina carina merlin dai non è male come serie tv io l'ho iniziata questo non so cosa sia magari the walking dead allora the walking dead raga le prime stagioni sono wow incredibile bellissimo poi dopo negan è stata tutta una trashata bruttissima a parer mio perché per me poteva finire in qualche modo con negan quindi io la vado a mettere su carina perché bello fino a una certa serie e poi è crollata dottor house non mi è mai interessato un gran che dottor house si carina ma nulla di che per quanto riguarda gotham non l'ho mai vista ma vorrei vederla questo dovrebbe essere tipo black mirror può essere raga non lo so ma qualsiasi cosa sia se è black mirror vorrei vederla questo non so cosa sia the last dance lo avevo iniziato quindi lo piazzo su vorrei vederla raga e come vendere droga online velocemente io ve lo metto nel top perché raga è una serie tv wow spensierata bellissima e mi è dispiaciuto un sacco quando è finita infatti spero esca il continuo perché è meravigliosa probabilmente molti di voi non saranno d'accordo su alcune serie l'avrebbero messo ma è giusto così raga anche perché sono gusti personali anche perché se tutti avessimo gli stessi gusti le altre serie tv non avrebbero senso di esistere no? quindi per questo video è veramente tutto aspetto i vostri commenti fatemi sapere qual è la vostra serie tv preferita noi ci vediamo con i prossimi video sempre solo qui su turbo ciao 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 ciao